Siamo con il dottor Spini che è l'amministratore delegato di MG Mori e quindi le chiediamo che cosa presentate in fiera? Sì, presentiamo alcune soluzioni di fresatura, alcune soluzioni di tornitura sia da barra sia da universali e presentiamo anche una macchina additive che è un po' il tema più di moda e di attualità anche per le officine meccaniche che si affacciano su questo mondo. Presentiamo soprattutto poi delle soluzioni che sono a contorno della macchina utensile che comunque rimane il cuore della nostra proposta e sono soluzioni che vanno verso la digitalizzazione quindi sia per quanto riguarda le applicazioni a bordo macchina ma soprattutto per la parte di interconnessione e di service delle macchine utensili. Parteciperete anche alle prossime appuntamenti a Parma e a Bologna? Sì, noi partecipiamo a MEXP abitualmente da qualche anno a Parma, abbiamo volentieri accolto l'invito di partecipare a Bari anche perché è una terra nella quale crediamo molto, io credo che il Sud sia il posto dove noi abbiamo più margine di miglioramento. È una nuova opportunità quindi territoriale? Sì, abbiamo fatto già degli eventi ma presso i nostri clienti e quindi il primo evento pubblico di questa portata l'abbiamo raccolto al volo e parteciperemo ancora a Parma evidentemente e poi anche a Bologna le eduzioni future. Mi definisce questa fiera con un aggettivo? È una scommessa, questa è però una scommessa che crediamo di portare a casa.